Si alza il sipario sulla 21esima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini che ha preso avvio martedì 4 luglio a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Un taglio del nastro all'insegna dello sport con varie discipline sportive portate direttamente in piazza. Il Parco Ipini di Castiglion Fiorentino infatti per l'occasione si è trasformato in un autentico palazzetto dello sport all'aria aperta. Il Parco Ipini di Castiglion Fiorentino è stato fatto in un autentico palazzetto dello sport all'aria aperta. Un'iniziativa che quest'anno ha cambiato location per quanto riguarda l'inaugurazione e la partenza di questa manifestazione. Un luogo, un parco a disposizione delle associazioni, di tanti bambini a contatto con i campioni e questo è il messaggio che più ci piace. Un messaggio di Fair Play, di rispetto delle regole, di rispetto dell'avversario e anche di correttezza in quello che è il senso della vita e delle istituzioni. Come comune siamo orgogliosi di essere accanto a manifestazioni con questi valori e credo che lo spettacolo che quest'anno riusciamo a dare con il coinvolgimento di numerosi sport e numerose attività sia uno scenario indimenticabile per il nostro territorio. Parte così una tre giorni di sport e di incontri all'insegno ovviamente dell'etica sportiva. Abbiamo aumentato le discipline sportive da quelle che erano organizzate naturalmente negli anni passati, ovvero pallavolo e tennis. E qui siamo a otto attività sportive per cui ampliamo lo spirito e l'apertura in gioia del Fair Play. E qui siamo a otto attività sportive per cui ampliamo lo spirito e l'apertura in gioia del Fair Play. E qui siamo a otto attività sportive per cui ampliamo lo spirito e l'apertura in gioia del Fair Play.